l'anticiclono che per diversi giorni è interessato l'italia con condizioni di caldo e afa nei bassi strati tende a flettere temporaneamente dai fini di settimana per il passaggio di un fronte freddo dall'atlantico avremo quindi sabato ancora condizioni di tempo buono con cielo in genere sereno poco nuvoloso su gran parte della regione per buona parte della giornata poi variabilità nel pomeriggio potrebbe dar luogo a qualche locale temporale in montagna non escluso anche su altre zone specialmente verso sera venti di brezza temperature ancora piuttosto elevate fino a 34 35 gradi le massime in pianura con condizioni di afa nel pomeriggio 30 gradi 31 sulla costa con affa che si dovrebbe proporre solamente nelle ore serali caldo anche in montagna a fondo valle con valore intorno ai 30 gradi appunto nei principali fondo vale della nostra zona montana domenica si avrà nuvolosità variabile con probabili temporali sparsi qualche temporale potrebbe essere anche forte sia in montagna che in pianura che lungo la costa soffiaranno venti da sud che poi vireranno a nord o nord e specialmente verso sera con bora moderata appunto in serata farà ancora relativamente caldo anche se le temperature diminuiranno un po rispetto a sabato massime intorno ai 30 32 in pianura intorno ai 28 30 sulla costa la giornata di lunedì poi sarà con tempo di nuovo bello cielo in genere sereno o al più poco nuvoloso ancora caldo con massime sopra i 30 gradi quasi ovunque ma piuttosto asciutto e dello salvatore metodo dell'arpa arturo pucillo vi saluta